Quarta domenica del tempo ordinario, la liturgia ci propone come prima lettura un passo del profeta Sofonia in cui si descrive la condizione di coloro che scampano all'esilio. Nella storia di Israele c'è il tema dell'esilio che è un momento di correzione che il popolo visse per i suoi ripetuti tradimenti, per l'infedeltà dei re di Israele che portano il popolo di Dio all'idolatria molte volte. Ecco che avviene questo momento di grande purificazione, che è il momento della deportazione, dell'esilio, della classe nobile, della classe sacerdotale, di tutti i ricchi e dei notabili del popolo che vengono portati in Babilonia e curiosamente chi sopravvive all'esilio nella terra di Israele sono proprio i poveri. Il cosiddetto resto di Israele e il resto di Israele di cui si parla qui sono questi che scampano alla correzione, nel senso che non vengono notati perché sono secondari, non sono importanti, sono i poveri, sono quelli che non contano e quindi vengono salvaguardati da questa macina, da questa distruzione che è l'oppressione della potenza straniera che impone questa correzione. Ecco questo è il testo che prepara la proclamazione in questa domenica delle beatitudini. Siamo nel capitolo quinto del Vangelo di Matteo e abbiamo le beatitudini che sono questo testo così importante, così bello e che sono un'occasione in questa domenica del tempo ordinario per ricordare una cosa che spesso abbiamo un po' tradito. Questa ripetizione martellante otto volte della parola beati, beati, anzi nove perché c'è una nona beatitudine che è quella quando dalla terza persona plurale, beati i poveri in spirito, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sede della giustizia, si passa alla seconda plurale, beati voi quando vi insulteranno e Gesù parla direttamente ai suoi discepoli a cui è riservato questo destino. Ecco questa martellante ripetizione di questa parola beati è la proclamazione di ciò che veramente la vita nuova è. Il cristianesimo è una chiamata alla felicità. Quante volte abbiamo trasformato il cristianesimo in una chiamata all'etica, alla perfezione che molto spesso è un po' un narcisismo spirituale e noi crediamo che il cristianesimo sia una questione di coerenza, è una questione di felicità. Si dice che è un santo triste, è un tristo santo ed è vero che ogni santo prima di essere dichiarato tale deve essere dichiarato beato, cioè felice, cioè compiuto. Uno che ha trovato il nocciolo bello della vita, ecco chi trova il nocciolo bello della vita. I poveri spirito perché per la loro condizione sono nella condizione di poter ricevere il regno dei cieli, quelli che sono nel pianto perché questi possono essere consolati e i miti perché conseguono una terra molto più seria, molto più grande che non le povere quattro cose per cui combattiamo su questa terra, ma una terra che è la terra verso cui ogni nostro pellegrinaggio mira, il regno dei cieli, la pienezza. Coloro che hanno fame e sete della giustizia, cioè di ciò che è vero e di ciò che è autentico, quelli non che vogliono giustizia in senso vendicativo, ma quelli che cercano la giustizia del regno dei cieli, come dice poco più avanti poi lo stesso testo di Matteo. Ecco, questi sono quelli che saranno saziati, chi ha desiderio di santità sarà saziato. E beati i misericordiosi sono coloro che troveranno misericordia, cioè la cercavano. Chi sono i misericordiosi? Quelli che hanno memoria di aver bisogno di essere perdonati. Allora loro troveranno misericordia perché perdonano e a loro è perdonato, come ricordiamo sempre nella preghiera del Padre nostro, che rimetti a noi i nostri debiti, anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Noi abbiamo bisogno di perdonare perché abbiamo bisogno di essere perdonati. Diamo e ci sarà dato, regaliamo e ci viene regalato, usiamo misericordia e troviamo misericordia. Ed è questa la felicità, trovare la misericordia di Dio. Ed è così che si lavora sul proprio cuore, si lavora attraverso queste povertà, queste lacrime, queste mitezze, questo appetito, questa sete. Ecco che si inizia ad avere un cuore che non è più ingannato, è un cuore puro, è un cuore autentico, si va al cuore della nostra esistenza e allora finalmente iniziamo a vedere Dio e quello è la beatitudine. Vedere Dio nella nostra vita, vedere Dio nelle cose che ci succedono, vedere Dio anche nelle tribolazioni che possiamo affrontare. E così si diventa operatori di pace, si scopre che la pace è tutto, che non c'è niente che conti quanto la pace. E quando vediamo qualcuno tanto agguerrito, tanto aggressivo, tanto pieno di livore che vuole a tutti i costi mettere a posto le cose perché è convinto di quello. Ecco, questo non è un operatore di pace ma di guerra. Ci sono quelli che anche in nome di Dio devono fare guerra, scatenare guerra. Quante volte la passione religiosa diventa la più aggressiva delle passioni. Ecco, e questi invece sono i figli di Dio, che come il benedetto e santo figlio di Dio, colui che dà la pace non come la dà il mondo, ecco, fa pace fra il cielo e la terra per mezzo del suo sangue ed è questa la vera pace. Ed ecco così che i perseguitati, cioè gli esclusi, cioè quelli che non hanno successo nel mondo e vengono buttati fuori, vengono inseguiti fino all'esclusione. Questi sono i perseguitati. Questi sono coloro che entrano nel Regno dei Cieli e possiedono il Regno dei Cieli. Sono strade di felicità. Questa è la strada della gioia. Quando noi perdiamo la gioia nella nostra vita è perché abbiamo perso queste strade, perché non siamo in contatto con la nostra povertà, perché non ci ricordiamo delle nostre più autentiche lacrime, perché combattiamo battaglie sbagliate, perché abbiamo fame e sete di cose stupide e siamo schiavi di passioni insulse e mediocre. Ecco, perché ci siamo dimenticati di aver bisogno di misericordia e perché abbiamo un cuore confuso, impuro, non libero dai suoi inganni, perché operiamo la guerra e non perseguiamo la pace. E per questo finiamo per essere gente che vive per il successo, gente che vive per essere applaudita. Ma è beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegrati avete esultati perché grande è la vostra ricomparsa nei Cieli, così come finiscono le beatitudini. E qui c'è una cosa importantissima. La parola più importante è proprio la prima. Beati. Cioè, succederanno tutte queste cose, ma voi sarete beati. E questo è il cuore, questo è il segreto. Questo è il segreto dei Santi. Questo è il segreto di coloro che sono di Cristo. Il segreto di una pace che anche in mezzo a un fuoco di persecuzione, di distruzione e di odio resta nel cuore. È lo Spirito Santo quella pace. È lo Spirito stesso di Cristo, il quale è del Padre anche sulla croce, parla col Padre anche sulla croce, a Lui affida il suo spirito. E questa è la nostra vera pace. Solo in Dio riposa la nostra anima, non nel mondo, non nel successo, non negli appagamenti, non nei divertimenti, non nel ridere che poi passa. In tutte le feste di questo mondo che hanno i minuti contati, in tutti i successi di questo mondo, anche nel mondo ecclesiale, hanno tutti i minuti contati. Tutte le cose volgono ad essere azzerate di fronte a ciò che veramente conta che è il regno dei cieli.